E chiudo, Presidente, con 30 secondi che rubo alla fine su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché all'interno di questo provvedimento abbiamo messo un articolo 5 septies che prevede il finanziamento, l'istituzione di un fondo al Ministero dell'Interno di 5 milioni 2019 e 15 milioni per ogni anno 2020-2024 per installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola dell'infanzia del Paese. Concludo, Presidente. La prima cosa è che nei bagni che facciamo e nei corridoi che facciamo creiamo delle norme totalmente demagogiche e andiamo a creare un clima di sospetto dentro la scuola dell'infanzia pensando che questa norma, Presidente, possa servire veramente a fare repressione di chissà quali reati.